Nel video di oggi andremo a vedere le varie alternative per la galleria di default, visto che in moltissimi smartphone è una delle applicazioni più lente. Cari amici di Android, bentornati in mia compagnia. Andiamo subito a vedere la prima valida alternativa, ovvero Quick Pick, un'applicazione che io usavo ai tempi del Galaxy S2 ed è un'applicazione che ci permette di sfogliare tantissime foto all'interno della nostra galleria in meno di due secondi. Trovare rapidamente tutte le foto attraverso i vari servizi ed è ultimamente supportata da Picasa, da Google Drive, da Dropbox, da Flickr, da OneDrive e da tanti altri servizi online. La reputo una delle migliori gallerie all'interno del panorama Android perché è molto versatile, molto veloce e devo dire è una pick up leggerissima quindi anche su smartphone non tanto recenti, possono fare davvero al vostro caso visto che tantissime foto occupano molta memoria RAM quando andiamo ad aprirle all'interno dei nostri smartphone. Questa è sicuramente una delle mie librerie preferite. Con l'arrivo di Android Lollipop 5.0 avete visto che all'interno dei vostri smartphone l'applicazione foto di Google Plus la troverete di default ovvero la galleria vecchio stile verrà aggiornata con questa nuova applicazione applicazione che ha come particolarità il backup online su Google Drive quindi non avete nessun tipo di problema nel perdere le vostre fotografie e avrete anche un'interfaccia direi molto snella e veloce come Quick Pick. Tanti amanti della vecchia galleria ovvero la galleria vecchio stile non preferiscono questa nuova versione della galleria di Google Plus però insomma dobbiamo dire che alla fin fine funziona bene non c'è nessun tipo di impuntamento all'interno di questa applicazione la condivisione è rapida, immediata e possiamo anche creare dei nostri album all'interno dell'applicazione stessa. Provando io poi parecchi telefoni una delle funzionalità che più preferisco è quella che mi riesce a dividere le foto per smartphone quindi riesco a controllare tutti i miei scatti. Altra applicazione direi molto molto interessante per il panorama Android è My Roll. My Roll è un'applicazione che ci permette di organizzare la nostra libreria di condividere le nostre foto, di scoprire e personalizzare tramite delle notifiche intelligenti le nostre foto ed è anche la prima galleria uscita all'interno del Play Store per Android Wear quindi per i nostri smartwatch. My Roll è stata anche votata vincitrice della migliore applicazione fotografica nei vari concorsi che si sono svolti in America un'applicazione anch'essa molto snella che fa aprire le nostre fotografie in maniera veloce ma soprattutto quello che mi piace di più è anche la condivisione all'interno di WhatsApp di vere e proprie gallerie quindi altra applicazione consigliata che si è aggiornata allo stile material design nell'ultimo periodo quindi abbiamo anche un ottimo aggiornamento da parte degli sviluppatori. L'ultima applicazione ma non per ordine di merito è Picture ovvero una nuova galleria che è dotata di grandi caratteristiche come per esempio la vista del calendario molto comoda all'interno dell'utilizzo di una galleria abbiamo anche il filtro della località e il filtro multimediale per riprodurre sia i video che anche riprodurre album fotografici ha un'interfaccia che si basa attraverso le gesture e quindi sarà molto veloce a scorrere da una galleria all'altra ed ha anche direi la personalizzazione di uno sfondo e di un'interfaccia molto gradevole in pieno stile material design come abbiamo visto anche le altre applicazioni è un'applicazione che integro all'interno delle mie gallerie perché non posso fare almeno della vista del calendario almeno riesco anche a capire quando ho scattato la mia fotografia e quindi riesco a catalogare al meglio il tutto queste erano le varie alternative alla galleria di default per oggi è tutto e come sempre ci sentiamo nei prossimi video Grazie! Grazie! Grazie!